8 gare su 11 disputate, 3 partite a sospese e non più recuperate, una vittoria e 7 sconfitte. Questo è il bilancio ottenuto sul campo nel 2021 dal Volley Montecchio. La squadra guidata dal coach italo-brasiliano Elio da Silvera Zadigno, impegnata nel campionato di Serie C, ha infatti chiuso la sua annata questo sabato 22 maggio a Bigarello, superata per 3-0 da Volley Davis. Una stagione breve e tribolata a causa del Covid, quella vissuta dalle Camone, iniziata con una splendida vittoria all'esordio. I risultati, tuttavia, quest'anno contavano ben poco. Ciò che premeva la macelle Riottelli era dimostrare sul campo la voglia di lottare e confrontarsi con avversarie che, in quanto a potenza ed esperienza, già sulla carta si prospettavano nettamente superiori. Così è stato e dopo una serie di gare che anche nei momenti più complessi hanno saputo tirare fuori il meglio dalle biancorosse, il Montecchio si appresta a programmare la stagione ventura. Certamente ci saranno alcuni cambiamenti, ai saluti il capitano Degani, che dopo una stagione praticamente ai margini a causa di un problema alla spalla, darà il suo addio al Volley, scelta per la quale potrebbe optare anche la palleggiatrice Facchinetti, attuale capitano in seconda. La squadra potenzialmente percorrerà dunque con ancora più decisione la strada della linea verde, fila da rimpolpare, anche con un lavoro strettamente legato al settore giovanile. Altro capitolo fondamentale sarà quello di ottenere risposte da parte di provincia e amministrazione comunale circa la disponibilità dalla palestra dell'Istituto a livelli di Darfo, dove non sono ancora stati realizzati i necessari lavori di adeguamento. Per il Volley Montecchio, desideroso di tornare in campo in un'annata il più possibile vicina alla normalità, si prospetta dunque un'estate di attesa.